Proceda lacrimente il lavoro dell'Università di Teramo per sbloccare e avviare i primi possibili lavori per la creazione nell'ex manicomio di una cittadella della cultura. Nel grande e antico complesso è previsto infatti il trasferimento di diverse attività dell'Università, afferenti soprattutto alla Facoltà di Scienze e della Comunicazione. Oltre a questo ci sarà anche la realizzazione di spazi culturali e didattici fruibili della cittadinanza. Il tutto però passa dallo sblocco dei 30 milioni di euro di fondi Masterplan destinati al recupero dell'ex manicomio di Teramo, ma trasferiti un anno fa dalla Regione per fronteggiare l'emergenza Covid. Stiamo lavorando con grande disponibilità di tutti i vertici della Regione Abruzzo affinché i fondi spostati momentaneamente per l'emergenza Covid vengano reinseriti in un'opera così strategicamente rilevante. Abbiamo accelerato molto tutte le fasi progettuali. Il 7 luglio c'è il deposito del progetto definitivo ed esecutivo. Subito dopo faremo il bando per la validazione del progetto consegnato a luglio per poi a ottobre pubblicare il bando per l'affidamento dei lavori. Una tabella di marcia molto impegnativa per recuperare il tempo perso su un'opera strategica non solo per la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'intera Università, ma per tutta la città di Teramo. Un progetto molto importante che potrebbe diventare veramente il fiorell'occhiello per la città di Teramo. È fondamentale perché segnerà per sempre la vocazione di Teramo città universitaria. Se lei dovesse dire una data, quando potrebbero iniziare i lavori? Diciamo che se tutto va come deve andare, dopo l'affidamento dei lavori saremo davvero molto ocelleri. Io credo che alla fine di questo anno si potrà vedere sicuramente l'avvio del cantiere.